Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video in attesa delle ultime carte TCG Andiamo a fare il recapone nazionale di Wild Survivors Come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati col mondo di Youtube Mi raccomando è importantissimo, grazie mille, link Fantasia Store affiliato in descrizione per preordinare Wild Survivors E nel frattempo aiutare anche il canale Tra l'altro voglio rinnovare il fatto che Fantasia è sempre ultra disponibile per qualsiasi tipo di divergenza, qualsiasi informazione, per tutto Quindi potete andare tranquilli Detto questo partiamo Allora abbiamo i nostri nuovi dinosauri, quindi Xenometeors Non è vero, Xenometeoros Poi Trash and Drake, sempre Meteors Giganzauros, Giganzauros, Deglinatus, Ground Xeno e Ilf Trascendent Flight E andiamo subito a vederli Comunque che si triggano Mi sa, secondo me mettono in TCG anche la ristampa del True King Perché fondamentalmente Mostra 3 si gioca Allora, Xeno Se una o più carte vengono distrutte in battaglia tra l'effetto della carta Possiamo evocarlo specialmente dalla mano Durante la main phase possiamo attivare questo effetto Non possiamo specialare mostri da extra A eccezione di Draghi, Dinosauri, Serpenti, Marine e Wyrm E in più spacchiamo un Dinosauro e controlliamo pure nella mano E specialiamo un Dinosauro normale dalla mano O deck Ovviamente va tutto in combinazione Ci evochiamo quel mostro normale che ci serve Per fare X-Ise, Sincro, quello che volete Anche fusioni ovviamente Poi Trash and Drake Meteoros Deve essere evocato dall'effetto di una carta Durante il turno dell'avversario Possiamo spaccare due altri Dinosauri E controlliamo pure nella mano E se lo facciamo lo evochiamo specialmente dalla mano Se viene evocata specialmente possiamo andare un Dinosauro dal deck al cimitero Se viene distrutto possiamo mischiare un mostro normale nel cimitero, nel mazzo E lo rievochiamo specialmente Il che è un po' la meccanica di tutti i nostri nuovi Dinosauri Giganzaule Un mostro Dinosauro più un mostro normale Se viene evocato specialmente possiamo targettare un mostro Dinosauro nel cimitero e aggiungerlo alla mano Il che è molto buono perché poi quando ti vuoi fare le fusioni ti riprendi In mano magari quello che hai mandato al cimitero Il che non è per nulla male, è un'ottima cosa Poi se questa carta viene evocata specialmente dal cimitero Se è stata evocata specialmente dal cimitero Possiamo distruggere una carta e controlliamo nella mano E una carta dell'avversario Senza targettare Se questa carta viene distrutta possiamo mischiare un mostro normale e lo rievochiamo specialmente dal cimitero Trascendrake Glacisaurus Un tunnel più uno più mostro in un tunnel Non può essere rotta in battaglia La versione non può targettare i dinosauri che sono evocati specialmente dal cimitero Con gli effetti della carta non li può distruggere dagli effetti Se lei viene distrutta Mischiamo un mostro normale e la rievochiamo Tranquilla tranquilla Trascendrake Ringnatus Dove mostro livello 6 Possiamo staccare materiale da questa carta Targettare un mostro, dinosaurio o bandito E specialarlo Se questa carta viene distrutta Possiamo mischiare un mostro normale dal cimitero o nel mazzo E poi possiamo evocarla Se questa carta non ha materiali Se questa carta con nessun materiale combatte con un altro mostro Ogni danno che viene infitto all'avversario viene raddoppiato Quindi è molto buono Perché comunque noi rimuoviamo un sacco di dinosauri E quindi ce li rievoca Ground Xeno Magia fondamentale, fortissima Aggiungiamo un dinosauro tunnel oppure un dinosauro normale dal deck alla mano E poi spacchiamo una carta Quindi ci triggerà Roma Possiamo bandire questa carta al cimitero Per fusionare un mostro dinosauro dall'exa deck Utilizzando un mostro in mano o terreno come materiale da fusione Lo potete fare tutti e due nello stesso turno E è molto forte, molto forte come carta Trascendent flight Targettiamo un dinosauro in entrambi i cimiteri oppure bandito Lo specialiamo Il che può essere utile con la nuova meccanica del Evochiamo dal cimitero per triggerare effetti Per renderli anche intergettabili e fare altra roba Quindi non male Poi ristampa di Frostosaurus Tirannosauro conduttore che sarà anche collector Rex gigante Mistosauro che speriamo arriverà a 3 Speriamo Ovi Raptor Lo sto registrando adesso Se poi esce la Banded Nel momento Capite Insomma Se questo video esce dopo la Banded Mistosauro sa 3 Tanto di cappello siamo contenti Ovi Raptor collector Babysaurus Il piccolo Vabbè Evolta il solda E poi andiamo a vedere I Wankyshowle Anche essi molto molto interessanti Allora Gli apro tutti Che detto così Non va benissimo Però insomma Eccoci qua Vankyshowle Vankyshowle Se viene evocato normal o special Possiamo aggiungere un mostro non guerriero D'archetipo dal deck Alla mano Effetto rapido Possiamo rivelare I mostri appropriati Per attivare uno dei seguenti effetti Soltanto uno ovviamente Fuoco Questa carta non può essere istrutta Dagli effetti Delle carte in questo turno Un fuoco Un'oscurità Distruggiamo tutti gli altri mostri Nella stessa colonna Possiamo utilizzare Nell'effetto una volta per turno Soul Pantera Se non controlliamo mostri Nella zona mostri main Possiamo specialarlo Dalla mano Effetto rapido Possiamo rivelare Sempre i mostri appropriati Dell'attributo appropriato Si triggano in effetti Ovviamente questa è la meccanica Deva anche il soul Terra Questa carta non può essere distrutta in battaglia In questo turno Terra e fuoco Distruggiamo tutte le magie trappole Nella stessa colonna Di questa carta Heavy Burger Durante la main phase Effetto rapido Possiamo targettare Un mostro Non macchina Ma anche il soul Che controlliamo Lo rimbalziamo in mano Se lo facciamo Lo specialiamo Dalla mano Effetto rapido Effetto rapido Riveliamo Con un dark Possiamo pescare una carta Con una terra E un fuoco Infeggiamo 1500 All'oppo Che non è male comunque Perché poi con la magia Magari ti evochi Quello scurità Te lo rimbalzi in mano Ti evochi specialmente Questo qui E fai partire l'effetto È veramente tanta roba Vanky soul Dr. Mudlove Se viene evocato Possiamo aggiungere Una magia Magia o trappola D'archetipo Dal deck alla mano Possiamo rivelare Sempre il mostro appropriato Con un dark Un mostro scoperto Nell'avversario Perde 500 di attacco In difesa Con un dark Con un terra Rimbalziamo Un mostro scoperto Sul terreno Con Difesa inferiore Con la difesa inferiore Con la difesa inferiore Ok Nella mano Quindi il mostro Con la minor difesa Rimbalza in mano In caso di parità Scegliamo Ok Quindi non è neanche Troppo male Perché insomma Rimbalzino Vanky soul Pluton hg Durante il tono Dell'avversario Se non controlliamo Il mostro Nella zona mostri main O tutti i mostri Che controlliamo Nella nostra Main Monster zone Sono d'archetipo Effetto rapido Possiamo evocarlo Specialmente Dalla mano Rivelando Un mostro fuoco Guadagna 3000 Rivelando Di attacco Guadagna 3000 Di difesa Rivelando Un mostro d'arche E terra Guadagna 3000 Di attacco Vanky soul Kaiser Various Durante la main phase Effetto rapido Possiamo targettare Un Vanky soul Non drago Che controlliamo E lo rifacciamo Tornare nella mano Se lo facciamo Specialiamo lui Appunto Sempre dalla mano Rivelando Un mostro terra Questa carta scoperta Immune agli effetti Attivati dell'avversario Con un terra Fuoco E un dark Spacchiamo un'altra Carta sul terreno Senza targettare E che non è male Perché fondamentalmente Puoi a seconda Della situazione Attivare uno Dei seguenti effetti Rock of Vanky share Serve Vanky soul E un link Uno Non può essere utilizzato Come material link Perché quando controlliamo Un mostro D'archetipo L'avversario Può targettare Soltanto il mostro Nell'attacco più alto Per gli attacchi In caso di parità Può scegliere lui Durante la main phase Effetto rapido Possiamo attivare Uno dei seguenti effetti Specialare Un Vanky share Dalla mano Oppure aggiungere Un Vanky share Dal cimitero Alla mano Che anche Comunque Anche Il secondo È molto buono Perché poi Riveli dalla mano E via Stake your soul La carta magia Fortissima Che ha dato un proprio Un boost incredibile Dal mazzo Riveliamo un mostro Nella mano Specialiamo Un Vanky soul Dal deck Con un nome Differente Ma con lo stesso Attributo E lo rimbalziamo In mano Durante la main phase Quindi a parte Che poi Pure se tu lo rimbalzi In mano Se li evoca E parte l'effetto Viene rimbalzato In mano Lo usi Per rivelarlo Quando serve Per attivare Gli altri effetti Oppure ti vuoi fare Tutta la combinazione Che ti serve Comunque è una carta Che Se te li evoca Dal mazzo Tranquillamente Ok Con una lascia Via Però insomma Vanky soul Last evil Targettiamo Un mostro d'archetipo E controlliamo Gli cambiamo La posizione Di battaglia Poi Cambiamo La posizione Di battaglia Di mostri Scoperti Da In coperti Scoperti Li mettiamo Coperti In difesa Pari al numero Di Vanky soul E controlliamo Con un nome Differente Quindi potrebbe essere Un book of eclipse Interessante Tra virgolette No Quindi è interessante Perché potrebbe coprire Un sacco di mostri E via Vanky soul Continua Paghi 500 Lp Magia rapida Targettiamo Vanky soul Nel cimitero Possiamo O aggiungerlo Alla mano Oppure specialarlo In difesa Anch'essa Molto buona Trinity Burst Targettiamo Un mostro d'archetipo E controlliamo Specialiamo Fino a due altri Vanky soul Dalla mano Con nomi Differenti Ognuno dall'altro Che è con Differenti Originali attributi Dalla mostro Targettato I loro effetti Sono annullati E rimbalzo In mano Durante la Infase Poi possiamo Far ritornare Tutte le carte Dell'avversario Nella stessa Colonna Del mostro Che abbiamo Targettato Quindi E' interessante Che potrebbe essere Anche un'interruzione Carina Poi ti fai Anche il Doppia vocazione Sol calamity Che è la Counter Nel mazzo L'avversario Attiva una Magia Trappola L'effetto Di un mostro Che targettano Più carte E controlliamo E noi controlliamo Sempre un Vanky Vediamo L'attivazione Se lo facciamo Spacchiamo La carta Poi possiamo Fuggire L'avversario Dando pari All'attacco Di un Vanky Soul Che controlliamo Carino Negate L'archetipo E' sempre Interessante Ristampo Poi formazione Fuocotenni E basta Ok E andiamo A vedere I nuovi Mostri Rituali I Nouvelle I Nouvelle Eccoci qua Con l'hamburger Affamato C'è un nuovo Archetipo E tu mi metti L'hamburger Affamato Che fa parte Di quell'archetipo Io sono Veramente Contentissimo Di questa Cosa Bure I Nouvelle Ho insultato Lui Il creatore Una lingua Due lingue Vabbè Possiamo ritualare Questa carta Con un qualsiasi Carta Recipe Possiamo Attivare Gli effetti Una lotta Per turno Se viene Evocato Specialmente Possiamo scavare Le prime Cinque carte Del mazzo Se lo facciamo Aggiungiamo Una di Una Nouvelle Scavata Alla mano E mischiamo Il resto Nel mazzo Quando una carta Un effetto Viene attivato E targhetta Questa carta Oppure Quando viene Targhettata Per un attacco Effetto rapido Possiamo Triputarla Possiamo triputare Questa carta Un altro mostro In posizione Di attacco In entrambi I terreni E se lo facciamo Specialmente Un mostro Di livello Due o tre Nouvelle Rituale Dalla mano Oppure Dec Quindi vanno Sempre A scalare Con Finthrust Dei novelle Possiamo Evocarlo Sempre con La carta Rituale Ovviamente Gli effetti Una volta Per turno Quando viene Evocata Specialmente Possiamo Targhettare Una maggior Troppo Alla Sotterreno La spacchiamo Quando una Carta Ha un effetto Che targhetta Questa carta Oppure Quando viene Targhettata Per un attacco Sono sempre Così Questi Qui Effetto Ravido Possiamo Tributare Questa carta E mostro Impossibile Di attacco In entrambi I terreni Se lo facciamo Specialiamo Nouvelle Nouvelle Nivello Tre o Quattro Dal mazzo Puertis Non so Gli accenti De Nouvelle Sempre Stesso Metodo Di evocazione Quando viene Evocata Specialmente Peschiamo Una carta Quando viene Targhettata Quando una Carta Viene Targhettata Non Effetto Oppure Un mostro Viene Targhettato Non Attacco Possiamo Tributare Lei Un mostro In posizione Di attacco Su entrambi I terreni Per evocare Un mostro Nivello 4 O 5 Nouvelle Ed ecco Un mostro Nivello 4 O 5 Nouvelle Che può Essere Evocare Una Qualsiasi Carta Ricetta Quando Questa Carta Viene Evocata Specialmente Possiamo Targhettare Tre carte In qualsiasi Cimitero E Mischiare Nel Mazzo Quando Una Carta Viene Targhettata Con Possiamo Tributare Nouvelle Controlliamo Il mostro Apposizione Di attacco Entrambi I terreni E evochiamo Il mostro Livello 5 Di livello 6 Ecco Il mostro Livello 5 Quando Viene Evocata Specialmente Aggiungi Un novello PUNO RSIPE Dal deck Alla Mano Sempre Metodo Incredibile Di targhettamento Di attacco Effetto Possiamo Possiamo Tributare Targhettiamo Il mostro In posizione Di attacco Anzi No Lei In realtà Mi ha Mi ha Gabbato Lei In realtà Possiamo Targhettare Il mostro In posizione Di attacco Dell'opo Lo tributiamo Il Target Il costo Il target Non è il tributo Quindi Già Questa È una brutta Cosa Poi Comunque Lo tributo Se lo facciamo Specializziamo Un mostro Vello 6 Nouvelle Rituali Dalla Mano O deck È un effetto Rapido Se viene Evocata Specialmente Da una Carta Nouvelle E ok Poi Bellgrill Nouvelle Possiamo Evocarla Con La carta RSIPE Possiamo Attivare I seguenti Effetti Una Dotta Per turno Se viene Evocata Specialmente Possiamo Negare Effetti Di qualsiasi Carta Scoperte Sul terreno Che l'avversario Attualmente Controlla Fino Alla fine Del turno Poi Se viene Se questa Carta È stata Evocata Travite L'effetto Di un Nouvelle Di un Mostro Nouvelle Tributiamo Tutti i mostri Che l'oppo Controlla Effetto Rapido Possiamo Targettare Un mostro In posizione D'attacco D'avversario Questo È il costo Tributiamolo Se lo facciamo Possiamo Specializzare Un hamburger Affamato Dalla mano Ora vedremo Perché è Così Importante Il nostro Hamburger Affamato Nouvelle Tablet Quando questa Carta Si risolve Magia Terreno Possiamo Aggiungere Una carta Recipe Dal deck O cimitero Alla mano Una volta Per turno Possiamo Piazzare Il mostro Rituale Dalla mano In fondo Al mazzo E pescare Una carta Durante Il nostro In phase Possiamo Targettare Due carte Del cimitero Incluso Una carta Recipe Piazzarle In fondo Al mazzo In qualsiasi Ordine E pescare Una carta Quindi Ci fa Ci aggiunge E ci fa Pescare Fondamentalmente Due carte Anche se Una Te la rimetti Dalla mano Nel mazzo Però insomma Ti mischia Un po' Le carte In tavola Giustamente Che si Si La carte Heris De Menu Dopo Tre ore Di insulti Di Diverse Diverse Lingue Riveliamo Due Novelle Con Nome Differenti Dal Deck L'avversario Ne Prende Uno Ce Le Aggiunge Alla Mano E Poi Mischiamo Il Resto Del Mazzo Poi Possiamo Aggiungere Una Di Queste Carte Dal Deck O Cimitero Alla Mano In base Al Tipo Di Mostro Che Loppo Ci Aggiunto Alla Mano Se Tipo Guerriero Bestia Aggiungiamo Reset De Poisson Fish Recipe Se Guerriero Reset De Vland Meet Recipe E Vedere Fish Questa Carta Può Essere Utilizzata Per L'Evocazione Di Qualsiasi Novelle Rituale Tributando In modo Si Amaro Terreno In cui Livello Uguale Sia Uguale Oppure Di Più Ok Se Evochiamo Bu Il Trill Bice Che Dovrebbe Essere Già Non mi Ricordo Più Dovrebbe Essere Quello Di Livello Alto Oppure Quello Di Livello Vabbè Aspettate Ok Se È Il Piccolino Con Questo Effetto Aggiungiamo Una Carta Reset Rituale Dal Deck O Cimitero Alla Mano E Certo Ovviamente Essa Questo La Chiudiamo Allora La Stessa Cosa Se Evochiamo Confie Trass De Novelle Con Questo Effetto Possiamo Cambiare La Posizione Dei Mostri In Posizione Di Difesa In Posizione Di Attacco Degli Avversari Quindi Mettiamo Tutti In Attacco Cosa Che Ci Serve Assolutamente Perché Poi Li Targettiamo Carta Trappola Continua Targettiamo Mostri Rituale Controlliamo Specialiamo Nouvelle Token Demone Attacco 50 Di 50 Nello 1 E Se lo facciamo Il suo livello Diventa Il livello Del Mostro Targettato Possiamo Possiamo Mandare Questa Carta Scoperta Dalla Magia Trappola Cimitero Per Ritualare Un Nouvelle Dalla Nostra Mano Tributando Mostri Dalla Mano Terreno In cui Il Totale Dei Livelli Sia Esattamente Uguale A Quello Del Mostro Rituale Per Concludere Abbiamo La Specialità Della Casa Quando Magia Trappola L'effetto Di Un Mostro Viene Attivato E Controlliamo Nouvelle Rituale Neghiamo L'attivazione Poi Se Controlliamo Un Mostro Evocato Specialmente Dall'effetto Nouvelle Possiamo Spaccare La Carta Se Abbiamo Evocato Specialmente Angry Burger Possiamo Bandire Questa Carta Dal Cimitero Per Tributare Tutti I Mostri Che L'Avversario Controlla Ecco Questa È La Cosa Fondamentale Dell'hamburger Affamato Quindi Combinazione Di Hamburger E Questo Gli Tributiamo Tutto Quello Che C'ha Sul Campo E Quindi Diciamo Che È Abbastanza Importante Come Ristampe Dell'hamburger Affamato Ricetta Dell'hamburger E Gli Incantesimi E Preparazione Dei Riti Che Credo Saranno Implementati Anche Dalle Altre Carte Tanto Da Noi Ce Ne Mancano Ancora 15 Quindi A Voglia A Te Detto Questo Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Ne Pensate Assolutamente Perché Appone Finito Questo È Stato Molto Più Facile Di Saber Somma Access Che Ci Stanno Metà De Carte Comunque Fatemi Sapere Cosa Ne Pensate Noi Come Sempre Ci vediamo Nel Prossimo Video E Un Saluto A Tutti